E ora dobbiamo fare complimenti agli organizzatori della colletta alimentare perché è positivo il bilancio della manifestazione in Alta Valle. Ricordiamo alcuni numeri, sono 15 negozi supermercati che hanno aderito, 120 volontari partecipanti, 13 gruppi di alpini al lavoro nei negozi e in oratorio per un totale di 14 ore di impegno che ha permesso la raccolta di bene 9.177 kg di alimenti. Nonostante la crisi economica la gente è riuscita a essere comunque generosa. L'adesione di Parre e Ponte Nossa, la novità di quest'anno, ha permesso un incremento importante sul quantitativo raccolto. Lo ricordiamo, gli alimenti raccolti verranno distribuiti alle diverse associazioni che sostengono le famiglie in difficoltà, alle comunità, alle mense e ai conventi.